Eh? Quanto siete aggallate? Eh? Avete già prenotato, vero? Vedi, guardale lì, tutte ero... 50 sfumatteri di grigio. Tutte ero... Poi gli chiedi un po' vino... Eh no, eh. Bravo! Ma che pezzo che costa? Io te lo farei se potessi. Siamo nel 3.000, ci giuro, ci sono ancora donne che non li fanno, vero? È vero, eh? Me lo giuro, è una roba incredibile, è una roba incredibile. Poi li fanno controvogli, che è peggio. Controvogli è peggio. Controvogli è peggio, perché li fanno male. E poi di tanto si diceva che li fanno, basta? No, no, ancora. Finché non impari?